Ciao e benvenuti su Tutorial Instruments! Che cos'è Tutorial Instruments? È il nostro programma di videocorsi interattivi per l'utilizzo e il funzionamento delle apparecchiature aeronautiche di bordo. Attraverso questi tutorial imparerete a conoscere meglio e in dettaglio i strumenti installati sul vostro aereo, apprezzandone maggiormente le loro utilità. Vi aspetto e iscrivetevi al nostro canale!